metto qualcosa per mandare chetano dimmi come mai la gente si guarda e sta ridendo in questo periodo non lo so io penso che ho saputo senza fare l'incidente ho saputo che girano dei video su facebook ma dicono che ci somigliano sono due persone no ma hanno detto che sono due non sono amonimi ma non sono il taranto e di dove sono? molto probabilmente sono della campagna ma non ti so dire di dove vengono dalla campagna o sono dalla campagna? vengono dalla campagna? pomodori, mozzarella mozzarella mozzarella? no 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 campagna vengono dalla campagna nel senso della regione campagna perché se io ti dico a te di dove sono del piemonte che significa che sono al monte pieni, sono pieni nel monte oppure se io ti dico se il veneto veneto che significa che è il vento al participo passato non lo so campagna, la regione campagna ma si detta amministrazione politica bravo bravo bra Eeeh a casa un euro, un euro, un euro, buttato! Pronto! Gennaro! Gennaro! Quella che c'è da? Eeeh! Al già preleva! Al già preleva, preleva 2.600 euro che compravo tutte le mozzarella! Mozzarella in carrozza! Ma perché si capi? Perché in carrozza? Perché quando il signore li porta dal carrozza! Bravo! Ma c'è... E mo? E mo... E mo... E mo... A... A... A me venda una cosa... A mozzarello! Vabbè chi sa lì ti saluta qualche nome! Ho saluto a zio Lino! Zio Lino che sta in carcere! A gioco e più di Castellammare e Stabia! E Castellammare e Castellarita! E mo ti diciamo una canzone! Chi ha di qua adesso! Una canzone... Mogheratrupa! Mogheratrupo! Ma... Chi ti dice... C'è di Pierettino! Chi è Fiorellino? Gianni il nome Fiorellino è Gianni è il nome Gennà è Fiorellino perchè è ricchiore Gianni Fiorellino perchè nella maschera Gianni Pizzaiolo E se la nonno Gianni il fornachello E se la papà Gianni il papaspello E se la sorella Barbie Fai Fai Fai